Non è il solito talk show, non è il solito dibattito politico, non è il solito programma di magia. Non è neppure il solito programma musicale. È una tv, la prima fatta dai cittadini, e senza intermediari. Dopo le dirette, le più viste e commentate, sulle elezioni regionali in Sicilia, Salvo Mandara, reporter per caso, presenta la TV 5 Stelle. Mercoledì, ore 21.30. In diretta sul canale di Salvo Mandara e su, La Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo grandi, momenti di televisione.